La vostra gente ha preso la mia maschera, Don Octavio. Non avevano alcun diritto di farlo. Non mi tolgo mai la maschera in pubblico. Vi rendete conto delle conseguenze di ciò? Non del tutto, ma... Verrò maledetto. Certo, capisco perfettamente che la cosa possa turbarvi. Pensate come vi sentireste se doveste togliere la maschera che indossate. Oh, le nostre maschere ci cacciano in un ginefraio, eh? Da quanto portate la vostra? Dall'età di sedici anni. Qui ho delle pillole e... Vorrei che le prendeste, vi saranno d'aiuto. Per bloccare il delirio, forse. Bene, allora temo che queste pillole dovremo prenderle insieme, poiché soffrite di una gravissima forma di delirio. Oh, di quale delirio soffro? Questa fantasia che siete un certo... Dottor Mickler. Sono rimasto deluso da voi, don Octavio. Profondamente deluso. Credete che non sappia che cosa vi accade, don Octavio? Ma io lo so, avete bisogno di me. Per una trasfusione. Perché il sangue vi è diventato polvere e vi ha occluso il cuore. Il vostro bisogno di realtà continuerà a soffocarvi le vene finché in voi non ci sarà più vita. Ma il mio mondo perfetto non è meno reale del vostro, don Octavio. È soltanto nel mio mondo che potete respirare. Non è così.